Com'è stata una partita complicata come ci aspettavamo, loro sono venute qua cercando giustamente di fare il risultato e ci hanno messo in difficoltà, sono state aggressive come ci aspettavamo, una partita era stata preparata per questo, le ragazze erano assolutamente concentrate, chiaramente il risultato è stato, secondo me rispecchia l'andamento della partita quindi è stato comunque un risultato che ci ha premiato in base anche alle occasioni che abbiamo avuto però comunque ci aspettavamo un riccione combattivo e così è stato. La squadra non ha mollato, dopo aver preso il gol del momentaneo svantaggio in una maniera sicuramente molto sfortunata. Sì, non è la prima volta che ci capita, è già la seconda volta che andiamo in svantaggio in casa, poi siamo stati capaci a ribaltare anche oggi il risultato e le ragazze chiaramente il merito è solo loro perché ci credono e si allenano per questo con concentrazione, attenzione e disciplina quindi il risultato è stato merito loro insomma. Nella ripresa poi raggiunta il vantaggio hanno saputo stringere i denti per contenere la reazione degli avversari? Assolutamente, erano un po' sulle gambe, chiaramente le due settimane dove ci siamo allenati un po' meno rispetto al dovuto ha fatto un po' la differenza, però è chiaro ci si aspettava che comunque sarebbe stata una partita dove si doveva soffrire, abbiamo sofferto, abbiamo stretti i denti e siamo riusciti a portare il risultato in fondo che per noi è importantissimo. E dopo la doppietta di Cirri nel finale il gol del Ceccarelli che la porta a Fota 8 nella speciale classifica Cannonieri? Sì, sì, Martina si sta allenando molto bene, le ragazze chiaramente lavorano anche in funzione del fatto che comunque i centrocampisti si devono inserire e oggi Cirri ha fatto quello che gli è stato chiesto, mi fa piacere molto per lei, mi fa piacere per Martina che chiaramente riesce a trovare continuità nella realizzazione e questo è importante per l'economia della partita del campionato. Due parole le merita anche Silvia Leonetti. Silvia purtroppo ha fatto pochissimi allenamenti con noi, chiaramente lei viene da una stagione un po' travagliata a Empoli, è venuta con tanto entusiasmo, le ragazze hanno fatto di tutto per metterla subito a suo agio, oggi era giusto farla partire dall'inizio, ha dimostrato comunque che c'è e quindi per noi è importante, sarà un rinforzo che darà il suo contributo a questa squadra per i risultati di questo campionato. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie.